e ciao a tutti farmer spero tutto bene dopo un mese e mezzo di utilizzo oggi andiamo a parlare di questo deutz fire 3060 che è stata la soluzione che ho scelto per la statoberado farm quando si parla di trattori tutti pensano sempre un trattore grosso ma qua la stato brado abbiamo bisogno di un trattore prima di tutto piccolo versatile perché abbiamo terreni limitati in estensione stiamo coltivando tre ettari ma soprattutto come sono i nostri terreni penso all'oliveto impianti abbastanza stretti penso al vigneto molto bassi penso anche solo qual podere dove cerchiamo di coltivare o alla brina cerchiamo di coltivare più spazio possibile serve una soluzione potente come nel nostro caso abbiamo 60 cavalli a disposizione te lo dico già ma soprattutto versatile questo trattore potrei eleggerlo come trattore jolly ma ti spiego meglio in ogni azienda serve un trattore jolly un trattore abbastanza potente compatto versatile dove attacchi tutti gli attrezzi che vuoi che ti servono da un elevatore a un forchino a un gancio per il carrello a una trivella questo è il trattore giusto quando si parla di trattori è un po come quando si parla di calcio ognuno ha la formazione la squadra del cuore l'allenatore che gli ci piace di più e ognuno con i trattori c'ha il proprio modello la propria casa costruttrice io devo dire che mi sto trovando veramente molto molto bene con la doiz questo perché per tre motivi prima di tutto perché qua in zona la usano veramente in tanti noi siamo vocati molto al vigneto ci sono un sacco di compatti hanno fatto un ottimo lavoro e anche le cantine quelle più rinomate stanno scegliendo dolce questo porta anche ad avere tanti concessionari ma soprattutto tante aziende che fanno la manutenzione qualunque problema ho con un trattore so che nel territorio ho qualcuno che lo sa riparare e questi momenti focali come possono essere magari la vendemmia o quando dobbiamo andare a fare delle lavorazioni nel terreno diventa essenziale oltre a essere affidabile la macchina deve essere riparata potenzialmente anche in un giorno e questa è una garanzia terza e ultima cosa i consumi soprattutto con l'aumento del gasolio avere una macchina che è ottimizzata fa tutte le lavorazioni di potenza come voglio io ma consuma poco è essenziale e devo dire che mi ha sorpreso perché veramente veramente ottimizzata al meglio musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quattro, due da questa parte e due da questa parte. Partiamo da sinistra, abbiamo la direzione quindi avanti, neutro, quindi folle, retro, quindi da qua comandiamo la direzione che prende il trattore. Sotto la leva serve a selezionare la velocità della PTO o innestare la proporzionale. Abbiamo le nostre marce, quindi ne abbiamo quattro di marce e qua abbiamo le nostre velocità, quindi abbiamo tre posizioni, quindi dodici marce totali. Freno, acceleratore, dall'altra parte la frizione. Andiamo a vedere anche l'altra cloche che abbiamo per andare a azionare la leva, per andare a azionare la presa di forza. Qua abbiamo la trazione che viene utilizzata, quindi per capirci quattro ruote, due ruote dietro. E per la cloche di comando ci fermiamo. Andiamo a vedere invece tutta la pussentiera che c'è qua. Ci sono quattro prese idrauliche su due distributori. Richiedendo in casa madre potrete aggiungere altri distributori. Le prese idrauliche anteriori sono un optional che io però ti consiglio vivamente. È veramente essenziale al giorno d'oggi averla. Anche qua possiamo settare dopo il trattore come vogliamo, però se dovessi proprio c'è prese idrauliche anche davanti. Abbiamo le nostre cloche per il sollevamento e più o meno tutto è qua. E il trattore praticamente è spiegato. Abbiamo la presa, quindi classica per il nostro lampeggiante, davanti. Te la mostro. Basta alzare e metterla. E il lampeggiante parte. E qua c'è forse uno dei primi difetti di questo trattore che ogni volta che scendo o il lampeggiante acceso bastava mettere un pussante qua per accendere e spegnere la presa elettrica. Non è un grandissimo difetto. Però prossimo modello pensiamoci perché è una comodità perché altrimenti devi continuare a rattaccare, a staccare, a staccare, a staccare e ti dimentichi. Andiamo a vedere un po' sul retro invece del nostro trattore. Prese idrauliche. Abbiamo la presa per il carro, il nostro cardano sollevatore. E il farettino molto interessante. Il farettino è veramente, veramente utile. Soprattutto che punti verso il basso. Ottimo su questo. Niente da ridire. Allora la belva è andata veramente, veramente, veramente bene. Tre ancore con, cioè ripuntatore, tre ancore. Il lavoro è stato fatto veramente, veramente in modo eccellente. L'unica pecca, se vogliamo vederlo, è che probabilmente, ma senza probabilmente, dobbiamo attaccare qualche peso lì davanti. Però ragazzi, cioè, andiamo a prendere i pesi perché è un pochino in penna. Però, cioè, oh, lo dicate voi. Guarda qua, va solo fresato. Però per la piccola azienda agricola, lui è la soluzione. Jolly e quando c'è di andare giù di potenza a lavorare, questi qua saranno quasi 2000 metri quadri, sì circa, il lavoro è spettacolare. Questo trattore rimarrà con noi sino a fine stagione, andremo a testarlo utilizzandolo proprio in un ciclo completo agricolo. E poi, dopo, arriverà qualcosa di molto interessante, magari qualcosa di chiuso, perché durante l'inverno, anche se c'è un pochino di caldo, non fa male. Ma quale palla passa a voi? Avete qualche domanda, curiosità, modelli che vorreste vedere? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ti ricordo che questa è la Serie 3 60 CV della Deutz-Fahr. E per vederlo in azione ancora, non ti resta che iscriverti al canale, mettere un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!